Una passeggiata che ha preso avvio dalla Fortezza Medici a Siena e che si è conclusa in Piazza del Campo con il lancio di palloncini per salutare l'arrivo di un prezioso macchinario nel reparto di pediatria del Policlinico Santa Maria alle Scotte. Questa è la casa di tutti, quindi il primo luogo dei bambini, in un'occasione molto bella perché è stato comprato un macchinario che serve proprio per la salute e per la prevenzione dei nostri bambini. So che hanno fatto una bellissima passeggiata e non può che finire in Piazza del Campo e nel Palazzo Pubblico. L'apparecchio che sarà utilizzato per facilitare il prelievo del sangue dei bambini è stato donato alla pediatria grazie all'importante contributo di Estra con i fondi raccolti dall'Associazione Noi Siena. Si tratta di questo Venview che serve appunto per avere un accesso venoso immediato per quanto riguarda i bambini che si devono sottoporre al prelievo del sangue e quindi è uno strumento molto utile e molto importante per loro. Quindi la presenza dei bambini oggi serve per ringraziare tutti insieme noi che siamo riusciti a donare questo grande strumento per la pediatria di Siena. Abbiamo raggiunto un grande traguardo che è quello appunto dell'acquisto di questo strumento che certamente ci sarà utile nella nostra pratica quotidiana di medici, di sanitari e tutto questo grazie appunto all'impegno e alla motivazione di Noi Siena, di Estra, di Liberamente Osteria. Tutto molto bello, davvero molto molto bello.